A questo punto io mi sono detto, scusatemi, il nostro è un gioco in cui non c'è notaio perché conoscete il brazzo del servito, è fatto molto alla buona, però io ho detto questi sei io non li reggo perché già avete visto quello che stavano per fare. Allora dico qua ci vuole un notaio, un notaio sicuro, un notaio serio, una persona che prende seriamente sempre il suo lavoro. E allora ho pensato, qui c'è solo uno che prende seriamente tutto, qualsiasi cosa e ho chiamato Mike Bongiorno. Ho l'impressione che ho sbagliato mestiere, non dovevo fare il presentatore, dovevo fare il notaio per ricevere questi applausi. E' vero, può darsi, può darsi che sia giusto quello che dici. Però io aggiungerei una cosa, che cioè tu hai sempre difeso poi i tuoi concorrenti dal notaio, però il notaio è utile, è importante, è necessario, quindi stasera svolgerai questo compito forse leggermente ingrato, però insomma io penso che te la caverai benissimo. Ma spero, controllerò le domande, mi raccomando che tutto sia fatto come si deve. Ho sentito già che c'è qualcosa che non funziona, i pulsanti. Era lui che, ecco, adesso funziona. Comunque se non funzionano che cosa faranno? Un verso? Cosa devono fare? Pepe? No, ma è a posto, io credo che... Perché eventualmente se non funziona, tu fai Pepe, io capisco che sei tu, Vianello invece fa Papà e Dan Peterson fa Pupù. Va bene? Ok. Ok. E mi pare che ci siamo fino qua. Esatto, molto bene. Allora, perché la cosa bella è che lui non si accorge di quello che dice, se ne ricorda dopo. Ho pensato a questo. Allora forse non è vero che io non sono spiritoso. Ma tu sei spiritosissimo, sei spiritosissimo, hai preso talmente sul serio questo tuo lavoro che in fine conti fai sorridere.